Da ora in poi non sarà più consentita l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta in materia di incentivi fiscali legati al settore dell'edilizia. Lo stabilisce un decreto legge del Consiglio dei Ministri che consentirà solo la detrazione bloccando di fatto la cessione dei crediti alle regioni e ai comuni poiché è ritenuta potenzialmente negativa per l'aumento del debito pubblico. Ciò getterebbe nel baratro centinaia di imprese siciliane che vantano crediti per oltre 200 milioni di euro attualmente bloccati. È stata la deputata di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana Bernadette Grasso a lanciare l'allarme. Il già chiuso della Grasso segue la presa di posizione del capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro che in settimana ha esortato l'intervento della regione per l'acquisto dei crediti d'imposta detenuti dalle banche a seguito di gestione operata dagli operatori economici o da cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali per evitare di portare al fallimento ha detto centinaia di imprese facendo collassare così l'intero comparto edilizio siciliano. La situazione di stallo si è venuta a creare in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di approvare il decreto legge con misure urgenti in materia di gestione di crediti d'imposta relativa agli incentivi fiscali. Non sarà più possibile, secondo il decreto attuato dal governo Meloni, effettuare l'opzione dello sconto in fattura nella gestione dei crediti d'imposta per i bonus fiscali. Il decreto interviene in particolare per modificare la disciplina riguardante la gestione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e super bonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L'oggetto dell'intervento non è il bonus, bensì la gestione del relativo credito che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico. Chiederò ufficialmente al governo Schifani di acquistare crediti attualmente fermi dentro i cassetti fiscali, ha concluso Lagrasso. In linea con quanto stanno già facendo altre regioni d'Italia, occorre un adderogo al dettato nazionale per alleviare le sofferenze di tante imprese alla canna del gas. Grazie a tutti.